...della conferenza delle regioni, perché penso sia opportuno Assessore che quando avrà delle risultanze a seguito di questa commissione, se lei riterrà di riferire quantomeno in commissione da noi, lo riterrei un fatto giusto. Io considero quanto contenuto nei commi 1118, 1119 e 1120 della legge di bilancio per il 2019 un fatto di una gravità inaudita, perché come ha messo in rilievo l'Assessore questo comporterebbe il rischio di un taglio di 300 milioni sul Fondo Nazionale dei Trasporti, ha ricaduto un taglio di 12 milioni per il Fondo Regionale dei Trasporti e quindi l'impossibilità ad esempio di onorare i nostri impegni con Trenitalia nell'ambito del contratto di servizio. Cioè sarebbe una ricaduta che metterebbe a rischio gli ultimi mesi di questo anno per quanto concerne la copertura finanziaria del trasporto pubblico locale all'interno della nostra regione. Ora noi avevamo già conosciuto l'accanimento del governo giallo-verde sulle infrastrutture e sulle grandi opere, è inutile qui parlare di gronde. Lo ricordo anche a chi in questa maggioranza esprime il vice ministro dei trasporti che è Rixi, perché non c'è soltanto una responsabilità dell'ineffabile Toninelli, c'è anche una responsabilità di tutto il di Castero, di tutto il governo e di tutta la maggioranza. Perché che cosa è successo? Siamo con chiarezza, siccome la legge di bilancio 2019 è una legge di bilancio strampalata, che è stata fatta su previsioni completamente errate, non solo si è deciso di ipotecare pesantemente la legge di bilancio del 2020, che partirà con uno scalino enorme, cioè dovendo recuperare 23 miliardi di euro se non scattano gli aumenti automatici dell'IVA. Ma siccome i conti non tornavano e siccome le previsioni sono sbagliate, in particolare quelle sulla crescita, perché lo ricordo il bilancio dello Stato prevede una crescita per quest'anno dell'1% del PIL, e tutti gli indicatori e tutte le agenzie di rating del mondo ci stanno dicendo che invece noi siamo entrati in recessione. E la crescita per quest'anno, quando va bene, è stimata allo 0,3%. Se si verifica questa cosa, e si verificherà questa cosa, vorrà dire che il monitoraggio di luglio dirà che quei 2 miliardi che sono stati per ora congelati e di cui fanno parte i 300 milioni di taglio ipotetico al Fondo Nazionale dei Trapporti non saranno più congelati e non saranno più tagli ipotetici, saranno tagli realizzati. Cioè quei 2 miliardi non verranno più assegnati, in quei 2 miliardi ci sono i 300 milioni e i nostri 12 milioni. Ed è del tutto evidente che una regione come la nostra non ha la possibilità in pochi mesi di recuperare 12 milioni di euro da mettere a disposizione del Fondo Regionale dei Trasporti. Quindi ci sarebbe un cortocircuito enorme dal punto di vista della tenuta dei conti del nostro trasporto pubblico locale, un rischio gravissimo che richiede un intervento tempestivo degli assessori regionali, e questo c'è, ma richiede... ...chiede anche un cambio di marcia radicale da parte di questo Governo. Credo che il Fondo Nazionale dei Trasporti vada messo in sicurezza e mi auguro che succeda qualcosa molto rapidamente, sicuramente prima di luglio, altrimenti il taglio ci sarà e sarà un taglio molto grave e molto duro. Bene, grazie consigliere.